Il Rosso ha fatto un gesto folle per Anna durante un suo concerto. Vediamo insieme quale. Dopo diverse live in cui hanno fatto conoscenze, Rosso ed Anna si sono finalmente incontrati dal vivo. Lo streamer infatti ha seguito il concerto di Anna all'Nameless Festival con questa maglietta qui davvero particolare. Con scritto Anna ma sta cena, la cantante l'ha notato e dopo l'esibizione Rosso l'ha raggiunta nei camerini. I due si sono abbracciati ed Anna ha finalmente accettato l'invito del Rosso. Andranno quindi insieme a mangiare il sushi e Anna ha detto addirittura che pagherà tutto lei. Cosa ne pensate di questo gesto folle dello streamer? Noi aspettiamo i vostri commenti. E dalla redazione di web per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video.